Il 7 giugno noi andremo a far valere le nostre ragioni. Non è pensabile che chi non paga può pretendere il servizio. È riuscito ad ottenere il provvedimento del TAR unicamente perché ha rappresentato falsamente le realtà dicendo al TAR, rappresentando al TAR, che noi avevamo sospeso anche i servizi minimi, cosa che non è vero, ribadisco, esclusivamente noi abbiamo sospeso i servizi aggiuntivi. E poiché stamattina, solo stamattina, c'è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziaria il provvedimento del TAR, noi continueremo, da domani si riprendono i servizi aggiuntivi e poi dal 7 giugno, il 7 giugno che ci sarà l'udienza davanti al TAR, faremo valere le nostre ragioni. Ma ciò non esime il sindaco De Luca a pagare il corrispettivo perché è un comportamento dei responsabili, soprattutto nei confronti della platea del lavoratore e dell'utenza tutta, perché con questo atteggiamento mette a rischio non soltanto il servizio aggiuntivo del Comune di Salerno, ma può mettere a rischio tutto il servizio extraurbano. Domenica prossima che succederà invece? Domenica prossima ho detto che riprendi il servizio aggiuntivo perché io essendo un uomo di legge rispetto alla volontà del TAR, ma ciò non esime che il Comune di Salerno deve pagare. Il 7 giugno farò valere le ragioni della CSTP perché, te l'ho detto, il provvedimento è stato emesso dal TAR in audita altra parte, cioè essendo praticamente un servizio pubblico, il TAR senza sentire la CSTP ha emesso il provvedimento. Poi all'udienza del 7 giugno è che sentirà anche le ragioni della CSTP, che ristabilirà in termini di fatto la realtà perché noi abbiamo sospeso esclusivamente il servizio aggiuntivo e non il servizio minimo perché questo è stato rappresentato al TAR.